Caro Bollette, una mannaia su famiglie e imprese, manifestazione di sindaci e associazioni cittadini, questa mattina a Monte Paone Lido. Oggi e domani i congressi del PD in 4 province su 5 per la legge di segretaria, Cosenza e il congresso rinviato a marzo, IRTO invita al voto. Giustizia, Regione e Procura di Regio insieme per la digitalizzazione degli atti e processi antimafia, finanziamento da mezzo milione di euro. Conclusi a capocolonna alcuni interventi per mettere in sicurezza importanti testimonianze archeologiche. In campo il segretariato regionale del Ministero della Cultura, un'effervescente Veronica Pivetti in scena al comunale di Catanzaro, con lo spettacolo stanno bruciando la nostra canzone per la stagione di Ama Calabria. Sabato 19 febbraio 2022, ben trovati sul 18 per la nostra informazione regionale. In apertura il caro bollette quest'oggi, il caro bollette che sta praticamente penalizzando famiglie da un lato, imprese dall'altro. Questa mattina una manifestazione a Montepaone. Si sono dati appuntamento a Montepaone per manifestare contro il rincaro delle bollette elettriche. Un'assemblea aperta di commercianti, cittadini, sindaci e associazioni. Rincari che non riguardano solo bollette, che sono triplicate rispetto allo scorso anno e con cifre da record. Ai prezzi alle stelle dei luce e gas si aggiunge anche il caro carburante, con effetti che si ripercuotano in modo significativo, si ripresa al dettaglio e anche sui prodotti di prima necessità. Oggi siamo riuniti perché i sindaci ci stanno dando ragione, in quanto anche loro stanno vivendo questo problema dell'aumento delle bollette. E io sono preoccupato soprattutto riguardo la qualità della spesa delle famiglie, che non potrà mai essere più una spesa di qualità, ma avrà la necessità di comprare roba che costa poco. Roba di bassa qualità, quindi le aziende medie, piccole, artigiani e quant'altro avranno grosse difficoltà anche a vendere i loro prodotti. In questi giorni è iniziata questa nostra forma di protesta forte, ha visto la Confessor Centi a starci accanto per le problematiche serie che stiamo vivendo. In modo particolare l'ho sempre sostenuto a pagare sempre l'utente finale, il cittadino, perché noi come Comuni continuiamo a garantire i servizi, ma per poterli garantire dobbiamo essere esattori nei confronti dei cittadini. Quando noi diciamo come sindaci che siamo preoccupati, lo testimoniano proprio le lettere che a noi arrivano. La società che gestisce la fornitura di energie elettriche e del gas a Chiaravalle ci scrive e ci dice che il contratto per la fornitura di energie elettriche risulta cessato in quanto a causa dell'eccezionale andamento dei prezzi sui mercati internazionali ci siamo trovati nella situazione di non poterle più offrire il servizio. E staccheranno la luce? Ci sta staccando la luce, dobbiamo trovare subito un nuovo fornitore e lo dobbiamo trovare con i prezzi che oggi attualmente ci sono. Con questo momento noi non possiamo quadrare i bilanci, tantomeno approvarli. Andiamo veramente verso il dissesto, perché oltre all'illuminazione pubblica, le scuole, la depurazione, che noi paghiamo un bot di energia elettrica senza aiuti che ci arrivano, non possiamo andare avanti. E poi c'è il Covid, ma fortunatamente lo stiamo già dicendo da diversi giorni. Nel corso delle ultime settimane è stata registrata una diminuzione del numero dei casi segnalati, delle ospedalizzazioni da un lato, ma anche delle terapie intensive dall'altro. Lo ribadisce oggi l'Istituto Superiore di Sanità nel suo rapporto esteso che accompagna il monitoraggio settimanale. La pagina politica ci occupiamo del Partito Democratico. Vediamo. Fine settimana di congressi provinciali e cittadini per il Partito Democratico calabrese. Gli iscritti andranno al voto in quattro province su cinque. Solo il congresso di Cosenza viene rinviato ai primi di marzo, così come ha stabilito la Commissione regionale per il congresso. Quello di Cosenza è l'unico nel quale sono in corsa due candidati. Nelle federazioni di Catanzaro, Crutone, Reggio Calabria e Vibo Valencia, infatti, alla fine, ci sono uniche candidature di carattere sostanzialmente unitario. Rispettivamente Domenico Giampà, Leo Barberio, Antonio Morabito, Giovanni Di Bartolo. Dunque, in questo fine settimana, si svolgeranno i congressi per l'elezione dei nuovi segretari provinciali e cittadini nei centri urbani superiori a 15.000 abitanti delle aree di Catanzaro, Crutone, Vibo Valencia e Reggio Calabria. Avremo un percorso e un quadro abbastanza chiaro per poter ripartire, riorganizzare e rigenerare il PD in Calabria. Il lavoro compiuto in queste settimane, dicono dal PD calabrese, ha permesso ai territori di avere candidature unitari nelle quattro province che andranno al voto oggi e domani. L'invito agli iscritti del segretario regionale Nicola Irto e di tutto il PD è di recarsi ai seggi e partecipare alle operazioni di voto e quindi di democrazia. Dal centro-sinistra al centro-destra abbiamo ottenuto ciò che i calabresi chiedevano ormai da anni, vale a dire stabilizzazioni e per la prima volta nella storia calabrese sblocco del turnover. Lo dice oggi il deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, in relazione all'approvazione dell'emendamento al corposo decreto 1000 proroghe. Con questo emendamento alla Calabria andranno 5 milioni per l'anno 2022 e 10 milioni di euro all'anno al decorre dal 2023. Risorse messe a disposizione dalla funzione pubblica che di fatto consentiranno alla Regione di effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzare quindi pian piano i precari storici. A proposito di Regione, la Regione e la Procura di Reggio hanno firmato un accordo per la cosiddetta digitalizzazione degli atti antimafia. Vediamo. Dopo l'accordo per l'istituzione di 25 uffici di prossimità giudiziaria, la Regione attraverso i fondi PAC finanzierà la digitalizzazione degli atti dell'antimafia giacenti e archivati dalla DDA di Reggio Calabria. A San Cirlo è una convenzione firmata a Palazzo Campanella dal Presidente della Giunta regionale Roberto Chiudo e dal Procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, assistiti dal Segretario generale del Consiglio regionale Maria Stefania Lauria e dal Vice Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio Milo Nucera. Presenti alla stipula anche la Vice Presidente della Regione Giussi Princi e il Procuratore generale Gerardo Dominiani. È una piccola cosa che però aiuta a rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia. Ho detto altre volte che il livello di civiltà di una Regione si misura anche dalla qualità dell'amministrazione della giustizia. In una Regione come la Calabria, che deve fronteggiare anche le infiltrazioni criminali dell'Andrangheta, intervenire a fianco della magistratura, dei tribunali, di chi si deve occupare di reprimere questi fenomeni. Nella fase nella quale noi dovremmo spendere tantissime risorse, quelle del POR, quella della programmazione europea, è un dovere per la Regione, ma è anche un'opportunità per una Regione che voglia fare di queste risorse, risorse utili a creare sviluppo, lavoro, e non risorse utili ad alimentare chi come l'Andrangheta e i poteri criminali i diritti dei calabresi li uccide. Questo progetto è ancora più importante perché mira a digitalizzare gli atti dei procedimenti penali della storia della DDA regina del passato e quindi tutti i processi che hanno riguardato l'Andrangheta regina negli anni passati, in particolare nel periodo della guerra di Andrangheta, tutti i periodi che costituiscono la storia dell'Andrangheta regina. Ciò consentirà per lo svolgimento attuale delle indagini e delle investigazioni una pioggevole consultazione di atti che oggi risulta difficoltoso consultare proprio per la loro quantità, per la loro collocazione in strutture diverse da quelle dell'ufficio e comunque la possibilità di avere un fascicolo digitale che ci consenta una consultazione agevole, rapida, sicuramente sarà alla base dello sviluppo anche di indagini attuali. A proposito di giustizia, torniamo ad occuparci di Mimmo Lucano. Lo ricorderete, l'ex sindaco di Riace è condannato a 13 anni. I suoi legali faranno sicuramente ricorso. Vediamo. L'unica cosa che ho da contrapporre a quello che ha sentenziato il giudice è la mia vita. Non ho commesso i reati per i quali sono stato condannato, anzi ho sempre agito in senso completamente opposto. Lo ha detto Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, nel corso della conferenza stampa che ha tenuto insieme ai suoi avvocati Giuliano Pisapia e Andrea D'Acqua nel centro della Locride per illustrare il ricorso presentato contro la sentenza emessa nel settembre scorso dal Tribunale di Locri, che lo ha condannato a 13 anni e due mesi di reclusione riconoscendolo colpevole di presunti illeciti commessi nella qualità di primo cittadino nella gestione dei migranti. All'incontro erano collegati in videoconferenza padre Alex Zanotelli, missionario comboniano ed il senatore Gregorio De Falco, entrambi vicini alle posizioni di Lucano. Abbiamo subito detto che il dispositivo era aberrante, leggendo la motivazione abbiamo subito concluso che la motivazione è più aberrante del dispositivo stesso. Ci sono errori assolutamente evidenti che non possono sfuggire, c'è un uso smisurato delle intercettazioni alle quali addirittura abbiamo rilevato, ma lo vedete nell'atto d'appello, abbiamo rilevato delle intercettazioni a cui il Tribunale ha dato un significato, un'interpretazione diversa dal contenuto letterale delle stesse, ma la cosa più grave è diversa da quella che aveva dato il perito trascrittore dello stesso Tribunale, non del consulente di parte. Abbiamo rilevato che vengono silenziati alcuni dati documentali importantissimi che abbiamo fornito, vengono indicate in maniera suggestiva circostanze che nulla hanno a che vedere con i capi di imputazione, quindi erano assolutamente forniti in maniera suggestiva. Abbiamo risultato un'addirittura, e questo c'è un espresso di vieto del codice, vengono utilizzati i verbali di interrogatori e di altri coimputati, nonostante, vi ripeto, c'è l'espresso di vieto di legge. Sono questi soltanto alcuni indicatori della assoluta infondatezza e della motivazione, per cui noi confidiamo nell'esito positivo del giudizio di appello. I carabinieri siamo in cronaca, gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Castrovillari hanno sequestrato una vasta area di vita d'autodromo, siamo nel comune di Tarsialc, sequestro degli oltre 10 ettari di superficie, si è giunti a seguito di un'attività che nel tempo ha visto impegnate le diverse forze di polizia in alcuni controlli. Nel fondo in questione, caratterizzato da una pista autodromo nella disponibilità di un uomo del luogo, sono state accertate diverse violazioni alla normativa. L'area tra l'altro è sottoposta a vincolo paesaggistico ma anche ambientale. E ora ci occupiamo di trasporti, nuovo machillage per la stazione ferroviaria Lido di Reggio Calabria. Vediamo. Il futuro della stazione Lido di Reggio Calabria è stato al centro della riunione tecnico ospitata a Palazzo San Giorgio tra l'amministrazione comunale e rete ferroviaria italiana che ha illustrato in modo dettagliato i lineamenti del progetto per la realizzazione del nuovo hub intermodale. Presenti al tavolo dei lavori, fra gli altri, i sindaci facente funzioni di Comune e Città Metropolitana, Paolo Brunetti e Carmelo Versace, gli assessori comunali ai trasporti e lavori pubblici, Domenico Battaglia e Rocco Albanese, e i rappresentanti di rete ferroviaria italiana. La nuova stazione sarà un terminale che esalterà ovviamente la giacidura della stazione stessa e soprattutto la vicinanza della stessa al museo. Quindi sarà nel cinquantesimo dei bronzi anche messa in rilievo la scoperta dei bronzi, la vicinanza al museo, la possibilità di all'interno stesso della stazione avere dei reperti archeologici che richiamano il nostro bellissimo museo e esaltare appunto questo avvenimento che quest'anno coincide proprio il PNRR e i suoi interventi proprio con il ritrovamento dei bronzi. Sarà anche il terminale della ciclovia della Magna Grecia, per cui ci sarà un'intermodalità treno, bike sharing e tutta una serie di altre cose, interverrà impattando positivamente sul lungomare e sulla faccia nello stretto. Quindi a tempi abbastanza anche veloci di realizzazione, sempre all'interno delle date previste dal PNRR e quindi sia con gli uffici del comune, con il sindaco facente funzione Brunetti e la parte operativa abbiamo ascoltato proprio i termini progettuali che le ferrovie, che RFI oggi ci ha illustrato. La Calabria ha scommette sui distretti del cibo, la regione ha dichiarato ammissibili 23 proposte di istituzione di altrettanti distretti che vanno così a coprire tutti i territori. è una iniziativa di fondamentale rilievo per la nostra terra, dice la sole regionale agricoltura Gianluca Gallo, indicata come tale nelle linee programmatiche dal Presidente Occhiuto. Il lavoro svolto a partire dalla primavera del 2020 è portato avanti con determinazione dal nuovo governo regionale e entra ora nella fase finale. A proposito di regione, ci occupiamo della Regione Calabria per un'iniziativa nel segno del linguaggio dei segni. Sensibilizzare i dipendenti della Regione Calabria all'utilizzo della lingua dei segni va in questa direzione l'iniziativa presentata dall'assessorato regionale al personale e alle risorse umane. Presenti insieme ai rappresentanti dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei non udenti, il Presidente Antonio Miriello e il Segretario Daniele Lettieri. Il Presidente Miriello ha evidenziato che si tratta di un corso molto importante che la Regione organizza per i propri dipendenti. Ci sono dei dipendenti regionali sordi che utilizzano la lingua dei segni e che hanno notevoli difficoltà nella comunicazione, quindi il corso è necessario per avvicinare i dipendenti alla relazione tra persone con questa problematica. L'assessore Filippo Pietropaolo. Su questa lingua vadano informati tutti i nostri dipendenti e la utilizzino il maggior numero delle persone, la sappiano quantomeno interpretare e utilizzare il maggior numero delle persone. È una giornata importante, dicevo io ringrazio l'ente nazionale di assistenza per la protezione e assistenza dei sordi perché è l'ente che ha proposto l'iniziativa e che io ho accolto con molto favore, ringrazio il Dipartimento che ha realizzato questi istruttori in tempi brevissimi e partiamo con questa prima iniziativa che è semplicemente di sensibilizzazione, quindi come è giusto che sia, ecco come appunto sta facendo la dottoressa qui accanto a me, è giusto che anche le persone che hanno questa disabilità siano parte integrante della nostra attività, per cui già lo sono personalmente e umanamente perché lavorano con noi tutti i giorni, ma è giusto che abbiano la possibilità di comunicare come ciascuno di noi e quindi è fondamentale che questo primo corso serve semplicemente a dare un aiuto e una sensibilizzazione all'utilizzo con alcune prime insegnamenti sulla lingua dei segni, ovviamente non presume questa prima iniziativa di insegnare completamente la lingua dei segni che è molto complessa, ma ha lo scopo di sensibilizzare e di incentivarne almeno l'utilizzo o la comprensione. Questa mattina presso il porto di Crotone si è verificato un nuovo sbarco di migranti sulle coste della provincia pitagorica, sono giunti scortati da una motovedetta della Guardia di Finanza che li ha intercettati a largo, 43 migranti in gran parte di nazionalità afghana dopo le prime operazioni di accoglienza sul porto sono stati trasferiti presso il cara di Sant'Anna dove trascorreranno il periodo di isolamento fiduciario. A proposito di mare adesso vi portiamo in un posto bellissimo a Capocolonna, il promontorio Lacino, abbiamo realizzato un servizio con immagini e fotografie davvero esclusive. Si sono conclusi i lavori di somma urgenza a protezione del santuario di Capocolonna e dei resti archeologici di epoca romana posizionati sul ciglio est della Falesia. Le opere di difesa costiera sono state precedute da prospezioni subacquee di carattere archeologico e naturalistico nelle aree interessate dalla posa in opera dei massi e dalle lavorazioni ad essa attinenti. Poi, nella prima settimana di febbraio, sono avvenute le operazioni di recupero di parti di strutture murarie e di un blocco rettangolare in calcarenite locale pertinenti ad uno dei triclinia della Domus databile negli ultimi decenni del I secolo a.C. precipitati in mare negli anni cinquanta. Nello specifico sono stati recuperati tre settimurari di notevoli dimensioni. Tutto il materiale è stato trasferito e posizionato nell'aiuola di fronte all'ingresso del Museo archeologico nazionale di Capocolonna nel raggio di azione delle telecamere. Alessandra Ghelli, funzionario archeologo subacqueo del Ministero della Cultura, spiega. Attività di recupero che sono state difficoltose, attività di recupero che si è potuto realizzare solamente via mare. Sono stati due giorni molto intensi. Operativamente parlando abbiamo lavorato più di dieci ore, prima con l'imbrago e poi con il carico sul pontone. Tutte queste attività ovviamente sono state fortemente condizionate dalle condizioni meteomarine che hanno condizionato e allo stesso tempo anche rallentato quelle che sono state le attività operative. Un lavoro di alta precisione e di importanza messo in campo con il coinvolgimento del personale di tutti gli uffici territoriali del Ministero della Cultura, con il supporto tecnico operativo del nucleo carabinieri subacqueo e di Messina al comando del maresciallo maggiore Domenico De Giorgio e poi del nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri di Cosenza al comando del tenente Giacomo Geloso. Sul cantiere Salvatore Patamia, responsabile del segretariato regionale per la Calabria del Ministero della Cultura. Lo suo obiettivo istituzionale è quello della tutela, della conservazione e del restauro dei beni culturali, quindi ci sforziamo, a volte ci riusciamo anche bene, a volte un po' meno, appunto di tutelare i beni culturali della Calabria e quindi quello è il nostro obiettivo istituzionale e facciamo di tutto per raggiungerlo. Lavori importanti e che hanno tanti significati, come sottolinea il responsabile unico del procedimento, Giancarlo Del Sole. È importante prima di tutto perché c'era una situazione fisicamente importante da sistemare, ma è importante secondo me anche dal punto di vista del segno che si vuole dare anche per un discorso di tutela, per un discorso di avvio di interventi simili e tutto quanto, quindi secondo me è importante per questo, non è solo l'intervento di per sé abbastanza contenuto perché riguarda un pezzettino, però secondo me ha un significato. Sull'intervento effettuato il funzionario archeologo Alfredo Ruga sottolinea. Permetteranno di valorizzare questi elementi recuperati davanti all'ingresso del museo, dove ci potrà essere anche un aspetto tattile che magari nella zona archeologica non è possibile e qui sarà possibile toccare i manufatti antichi che vengono salvati così e valorizzati. La pagina dello spettacolo, stanno sparando sulla nostra canzone, questo è il titolo dello spettacolo andato in scena ieri sera al comunale di Catanzaro nell'ambito della stagione di Ama Calabria sul palco una vera e propria effervescente Veronica Pivetti. Una storia d'amore ma la vita raccontata con grande naturalezza, seppur piena di spunti di riflessione, stanno sparando sulla nostra canzone con Veronica Pivetti e andato in scena al teatro comunale di Catanzaro nell'ambito della rassegna teatrale di Ama Calabria, diretta da Francescantonio Pollici. Veronica Pivetti nei panni di Jenny Talento, fioraia, ma anche spacciatrice di oppio e personaggio moderno e ambizioso che guarda al futuro con la giusta ambizione di chi vuole rinascere muovendosi in un mondo in cui la criminalità è dietro l'angolo. Corteggiata da Brian Bocconi e Christian Ruiz nei panni di Nino Miseria e Michi Malandrino, la donna cede all'amore verso il primo incallito e inesperto giocatore d'azzardo mantenendo un equilibrio e un cinismo che la conducono a cambiare vita. La trame è ambientata negli anni venti, quelli del Novecento, quando la pandemia dell'epoca, conosciuta con il nome di spagnola, era oramai un ricordo. Quasi una volontà di creare un parallelismo con gli attuali anni venti e la relativa pandemia. L'attrice ha messo in mostra una qualità sino ad oggi sconosciuta, il canto. Pur alternando il recitato con le canzoni, stanno sparando sulla nostra canzone, non è un musical ma un lavoro che la stessa regista definisce Black Story, una commedia in cui le canzoni vengono innestate con dovuta sapienza. I brani presi a prestito dal vasto repertorio musicale internazionale, che va dagli anni 40 ad oggi, si sono integrati perfettamente con il racconto. C'è un grande abbraccio soprattutto in questo spettacolo sicuramente, perché la musica è come il testo, cioè è un grande aiuto al testo, manda avanti la nostra storia. In realtà cosa succede nei musical di solito? Che tutti recitano, in un certo punto si bloccano e si mettono a cantare. Qui invece no, qui c'è una compenetrazione molto profonda, fra testo e musico, un testo originale, che racconta una storia, e noi abbiamo scelto, facendo una selezione fra milioni di canzoni, quelle canzoni che riarrangiate, ma rimangono comunque loro, anche se l'arrangiamento ovviamente è tutto nuovo, molto originale, mandano avanti in qualche modo la storia, perché abbiamo dovuto proprio selezionare fra canzoni popolarissime, italiane, straniere, abbiamo fatto dagli anni 60 ai 2000 c'è tutto, sono proprio parte integrante della storia, e quindi è stato un lavoro abbastanza certosino, ma insomma che ci sembra riuscito, perché la gente è contenta. La pagina sportiva è un momento complicato per le squadre calabresi di Serie B, il crotone di scena a Lecce contro la seconda in classifica, il Cosenza con il nuovo allenatore Bisoli se la vedrà invece a Como, entrambe sconfitte in casa nell'ultimo turno, sperano di poter recuperare il terreno perduto, vediamo. Il crotone a Lecce, il Cosenza a Como, due squadre assettate di punti in piena crisi di risultati e classifica. La formazione del presidente Vrenda sarà di scena al Via del Mare, stadio che riporta la memoria ricordi felici per una promozione in una finale playoff di Serie C, ma domani sarà tutto differente. I rosso-blu arrivano da due sconfitte di fila, una più brutta dell'altra e proveranno a vendere gara alla pelle, per uscire indenni contro una formazione che in questo momento sembra non conosce l'avversario, e che combatte per la promozione diretta in Serie A. Con Canestrelli in dubbio per la gara di oggi, c'è da registrare la recessione di contratto con il difensore sudamericano Paz, che saluta il crotone senza aver mai lasciato una traccia positiva in questa stagione. E stilare una formazione performante dopo le brutture viste nell'ultima gara casalinga persa contro il Brescia, crediamo non sarà facilissimo per Francesco Modesto. A Como il Cosenza si presenterà con il terzo allenatore della stagione, Pierpaolo Bisole, in mano da poche ore alla formazione cosentina dopo l'esonero di Roberto Chiuzzi, e promette battaglia e impegno totale da qui alla fine. Avrà anche l'arduo compito di ricucire il rapporto ormai deteriorato tra la tifasseria e la società. Rispetto al crotone il Cosenza vanta una migliore classifica, ma non può certo dormire sonni tranquilli. Il Como è reddice da una striscia di quattro risultati utili, con la vittoria all'ultimo turno a Frosinone, che ha allontanato ultimamente la formazione lariana dalla bassa classifica. Crotone e Cosenza mercoledì prossimo daranno vita al derby all'uscita, con la speranza che le gare di oggi possano portare punti, altrimenti sarà una sfida drammatica da dentro fuori. Dunque domani in campo le due rosso-blu di B, mentre l'altra calabrese e la regina in casa, proprio in questo momento, sta giocando contro il Pordenone. Il parziale al venticinquesimo minuto del primo tempo è di 0 a 0. Tra pochi minuti anche il Catanzaro scenderà in campo a Taranto, giallorossi favoriti e non solo grazie alle ultime cinque vittorie di fila. La Vibonese invece giocherà alle 17.30 a Latina. Ed ora le previsioni del tempo. Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. La coda di una perturbazione che transita sull'Europa settentrionale apporta dei fenomeni nella giornata di domenica su parte del nostro territorio. Vediamo infatti nel dettaglio la grafica della nuvolosità che come vedete sarà presente principalmente sulle regioni centro-meridionali. In concomitanza di queste nubi avremo anche la presenza di precipitazioni lungo le regioni adriatiche. Infatti in definitiva ci attene una giornata di domenica caratterizzata da condizioni di variabilità al centro-sud con nubi a carattere irregolare di passaggio ma anche delle precipitazioni, come vi dicevo, sulle regioni adriatiche. Mentre il tempo tornerà a migliorare al nord dove non mancheranno ampi spazi assolati dalle ore pomeridiane. In mattinata sulla pianura padana segnalo la presenza a tratti di banchi di nebbia temperature massime tra i 12 e i 17 gradi da nord a sud. Con questo per il momento è tutto. Dettagli in merito alla vostra località come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo. 26 minuti dopo le 14. Grazie per averci seguito. Il Tg torna stasera. Tra poco invece dopo una breve pausa pubblicitare l'appuntamento con Luigi Grandinetti e Paolo Giura con la mappa dei piaceri. Il Tg, come detto, torna stasera. A dopo.